Un vero tuffo nel passato e in un pezzo di storia importante della nostra città con il raduno degli ex commilitoni del 225esimo reggimento di fanteria Arezzo. Il ritrovo come sempre nel piazzale della ex caserma Cadorna. Gli ex commilitoni guidati come allora dall'ultimo comandante del reggimento il generale Antonio Radogna, i fanti sotto ufficiali e gli ufficiali hanno reso gli onori ai caduti sia dinanzi al monumento del parco Mancini che al sacrario di via dell'anfiteatro per poi marciare alla volta del pennone e del monumento di piazza Fanfani. Una cerimonia a cui ha preso parte anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Presenti anche i bersaglieri della sezione di Arezzo e la fanfara di Siena. Tra i progetti rimasti ancora nel limbo l'ipotesi di un vero e proprio museo dedicato al 225esimo e chissà che alla fine non si riesca davvero a renderlo una realtà.